Giuseppe Gioffre, svolta come giudice ad Amici 22. Giuseppe Gioffre vivrà una svolta nella sua carriera come giudice nella 22esima edizione del programma Amici. Dopo aver fatto parte del corpo di ballo e aver ottenuto successo come ballerino, Gioffre accetterà il ruolo di giudice per la prossima stagione del talent show. La sua esperienza sul palco e la conoscenza approfondita del mondo della danza gli conferiscono una prospettiva unica e preziosa nel valutare i talenti che si esibiranno nel programma. La notizia ha suscitato grande entusiasmo tra i fan di Amici, che sono curiosi di vedere Gioffre nel nuovo ruolo e di scoprire i suoi giudizi e consigli per i concorrenti. La partecipazione di Gioffre come giudice porterà un nuovo dinamismo e una prospettiva diversa alla competizione. Sarà interessante osservare come si adatterà al suo nuovo ruolo e come contribuirà al processo di valutazione e crescita dei talenti di Amici.